Che avete fede. Cerchio Ifior attraverso Tullia e Gian, Gneusso. Buonasera a tutti, benvenuti a questo incontro. Noi siamo, parlo a nome di tutte le guide naturalmente, molto contenti di tutti voi, pressoché commossi, perché siete arrivati qua nonostante le avversità atmosferiche. Questo, come diceva qualcuno, e lì magari era lì io che cercava di fare un po' capolino, significa che effettivamente avete una fortissima spinta spirituale per arrivare a questi incontri. Insomma, che avete fede e che credete in quello che state facendo più che in noi. E questa è una cosa effettivamente molto importante. Ritenete che quello che state facendo sia giusto, che sia un qualcosa da portare avanti, e quindi niente e nessuno è in grado di fermarvi. E credo che, arrivati alle soglie del 2000, sia effettivamente una grande conquista individuale. Pensateci un attimo, ma con serietà questa volta, e ditemi se poi non è il caso di affrontare tutto ciò che avverrà da qui in avanti, con qualche goccia in più di ottimismo, tanto per restare in tema. Benissimo, dopo questa un po' strampalata introduzione, lasciamo il posto a qualcun altro, anche se, a mio avviso, sinceramente, non mi sembra che vi sia molto da aggiungere a quanto avete detto, perché più o meno avete centrato quello che le guide volevano che arrivaste a comprendere. Allora, per il momento vi saluto. Vi lascio e può darsi che venga a salutarvi più tardi. Ciao a tutti, per ora.